salve a tutti e bentornati in minecraft nello scorso episodio avevamo esplorato le novità della 1.9 con un episodio un po diverso dal solito e devo dire che vi è piaciuto molto quindi non sorprendetevi se vi riproporò qualcosa di simile in futuro ma se vi ricordatevo anche annunciato un po di tempo fa una tripletta di episodi basati sui villager e finalmente possiamo iniziarla visto che c'è la 1.9 quindi cosa serve per iniziare una tripletta di episodi sui villager beh i villager quindi oggi faremo ovviamente un villager breeder così saremo pronti per gli episodi successivi e li potremo anche portare in questa stanza dato che l'avevo fatto apposta per commerciare con loro ma ovviamente prima di iniziare con la redstone dobbiamo ovviamente fare il tunnel che porterà al breeder lo collegheremo da questo punto e ho cercato di dargli un aspetto originale rispetto al resto della base visto che voglio cercare di fare qualcosa di diverso in ogni episodio ovviamente beh iniziamo potrebbe sembrare che questo tunnel sia troppo piccolo che sia troppo vicino agli altri edifici ma è effettivamente così questo tunnel non è ancora completo infatti perché poi da questo punto qua andremo nella zona più lontana e spaziosa allora il passaggio non è molto diverso dal solito ma c'è qualche caratteristica che mi piace molto primo le pareti sono fatte di soli materiali simili a pietra quindi niente del tocco che utilizzo solitamente 2 ha utilizzato molto legno infatti questi pilastri non funzioneranno mai come delle vere e proprie colonne portanti ma visto che mi piacevano di aspetto le ottenute e 3 sembra una camera naturale e questo mi piace come sempre quindi ora passiamo la seconda parte del tunnel che sarà molto più ripida ed ecco come vi avevo detto questo tunnel è un po più ripido e anche classofobico questo tunnel è qui principalmente perché avevo sbagliato con le misure di quello precedente solo che mi piaceva come l'avevo costruito e quindi avevo deciso di lasciarlo mentre questo è così stretto solo perché avevo bisogno di fare più spazio per la zona che costruiremo tra poco e per fare più spazio doveva anche essere più in profondità e se avessi continuato con un tunnel largo la zona avrebbe avuto un aspetto strano quindi è semplicemente una serie di coincidenze che ci hanno portato a questo punto mai dall'altro dato della medaglia ho fatto una porta pistoni non ve lo aspettavate non avevo voglia di far vedere un'altra stanza vuota quindi mi sono messa avanti ho anche costruito un ponte quindi sapete già che alla fine di uno di questi ponti ci sarà il villager breeder e qua invece c'è l'entrata alla stanza ma invece dall'altra parte cosa ci sarà lì invece ci sarà la stanza in cui porteremo inizialmente villager per come dire selezionarli in poche parole scelgo i migliori e li porto nella stanza che abbiamo costruito nell'episodio 16 mentre gli altri verranno liberati dagli loro spogli mortali mentre di là non so ancora cosa farò tra l'altro devo trovare dei nomi per le zone la mia base perché è difficile riferirsi ad alcune cose se vi dico foggia capite all'incirca cosa mi sto riferendo ma se dico stanza dell'episodio 16 comincia ad essere già più complicato sono aperto a consigli come sempre tutto il verde che aggiungo da vita a queste stanze ovviamente sotto ci sono fiori sulle pareti foglie ed è tutto tipico del mio stile l'unica cosa diversa è l'albero al centro piccolo fan fact della creazione di questa stanza questa in realtà è il mio terzo tentativo ma era effettivamente la mia prima opzione quando stavo pensando a come farla avevo pensato una cosa incredibilmente simile a questa ma mi ero detto no facciamo qualcosa di distinto e questa ha portato a due tentativi fallimentari e ore di lavoro sprecate ma vabbè a e tra l'altro questo albero qua è esattamente uguale a quelli che ho fatto all'esterno nel villaggio principale ho solo cambiato il tronco per renderlo più adatto alla stanza queste fence lunghissime invece sono inutili ma mi piacciono e quindi le teniamo va bene ora possiamo passare al villager breeder finalmente un po di redson no beh in realtà non ce n'è molta ma quindi questo villager breeder non è un mio design semplicemente perché tutto ciò che riguarda l'accoppiamento dei villager la creazione di villaggi e la necessità di riproduzione sono troppo complesse e contorti quindi le lascia redstoner esperti e se si parla di redstoner esperti in questo caso ci riferiamo a yunari beat che ha fatto questo design super compatto e controllabile se siete interessanti a precisamente come funziona vi lascio il video del tutorial nella descrizione visto che fa un lavoro cento volte meglio del mio a spiegare come funziona l'unica differenza di quello che ho fatto io è che per portare fuori il villager da quella zona ho fatto un elevator d'acqua attivabile visto che il semplice metodo dei minecart non funziona più nella 1.9 ma adesso vorrei darvi una bella dimostrazione pratica della macchina ma indovinate cosa manca esatto il villager non so se avevo già mostrato questo villaggio ma da qui porteremo i villager alla base non è molto lontano appunto dalla base ma comunque utilizzeremo un portale per rendere il tutto ancora più facile se c'è una cosa frustrante in questo gioco è sicuramente lavorare con i villager quindi auguratemi buona fortuna dai su entra nel minecart perchè cacchi non vuoi entrare nel minecart ok questo l'ho fatto entrare nella sottospecie di villaggio artificiale seriamente non so come funzionano queste cose qua ma invece questi due li devo portare lì sotto in modo che iniziano a far funzionare la farm dai che manca poco va bene mentre guardiamo la farm funzionare cercherò un attimo di spiegarvi come funziona in questo momento è parzialmente modificata per fare in modo che il numero di villager nella zona di riproduzione siano più di 2 in modo che creino bambini più in fretta per chi non lo sapesse per far riprodurre villager bisogna portarli delle patate, carote o grano e per il momento li devo portare soltanto manualmente perchè non c'ho ancora nessun altro modo per farglielo arrivare ma nei prossimi episodi provvederemo a rendere anche quello automatico comunque i bambini vengono portati di là dove aspettano di crescere in quel buco e dopo aver rimosso questo accrocchio tutto strano che gira attorno appena crescono salgono di sopra e vengono portati di là in cui c'è un sistema che fa in modo di controllare il lag del mondo perchè se se ne accumulano troppi il mondo esplode chiaro tondo praticamente inizia la gara a livelli paurosi non posso più giocare ma in questo modo facciamo sì che appena lì ce ne sono all'incirca 40 il punto in cui i bambini aspettano si trasformino al bella trappola di morte e distruzione cose belle adesso che lì c'è una buona quantità di villager ho potuto levare il loop e metterla a farm in funzione normalmente ma ovviamente non mi sono limitato a fare questo infatti ho anche già costruito il posto in cui andremo a selezionare villager e a causa della 1.9 è diventato tutto più complesso ma comunque sono riuscito a cavarmela infatti i villager arriveranno da là sopra che è un flusso d'acqua direttamente collegato alla farm qua per prenderli uno ad uno ho messo un dispenser con minecart per portarli in questo punto qua in cui decideremo se il villager è degno o no se lo è lo invieremo di là verso una strada non ancora finita purtroppo mentre se non lo è lo soffrocheremo con un crusher ovviamente la domanda sarà ma come funziona? poi ve lo mostro ma per adesso vi faccio soltanto sapere che visto che ora i villager possono manovrare i minecart e possono andare dove li pare sulle rail la cosa più difficile è stata a questo punto qua come vedete non c'è una... vabbè basta ve lo faccio vedere è più semplice allora facciamo questo primo e speriamo unico test del progetto lì è pieno di villager pronti allo scambio che dobbiamo trasportare di là allora attiviamo il water elevator che porterà appunto i villager in un tunnel d'acqua che trasporterà fino all'altra stanza a differenza del resto della redstone del progetto quello che ho fatto qua l'ho studiato tutto da solo e ad esempio un'unica parte è stato praticamente tutto molto semplice quindi ora che ne abbiamo già qualcuno basta cliccare qui per far uscire un villager e portarlo fino a qua qua ovviamente controllerò quanto sia utile il villager e se decido che non è buono allora ovviamente attiverò il crusher che in questo istante è stato settato a durare poco per non uccidere il villager così ve lo posso dimostrare se invece ci piace clicchiamo quest'altro pulsante e voglio che siate molto attenti a quello che sta per succedere ok allora clicco qua con un double piston extender porto sotto al villager una rail che lo sposta di qua e contemporaneamente si inverte la direzione della rail che lo porta dall'altra parte per poi ritornare tutto a posto avete capito? no? oh beh ma quindi per questo episodio tutto quello che avevo progettato sono riuscito a completarlo ovviamente manca il tunnel che porterà il villager all'altra stanza di scambio e quello che porterà il cibo alla farm ma così sono cose di cui mi occuperò nei prossimi episodi ed è per questo che non è ancora tutto in funzione al 100% questo non significa però che non porterò alcuni villager che mi interessano nell'altra stanza ma nel caso lo facessi lo farei sicuramente off camera visto che se c'è qualcosa di più noioso di portare i villager a giro è di commerciare costantemente con loro per ore per trovare quelli con gli scambi migliori ma eh alla fine di questo enorme progetto diviso in tre parti vi posso assicurare che ci sposteremo a fare altre cose molto più originali perché sinceramente vi sto annoiando anch'io a scavare costantemente e a costruire costantemente in questa base prima di terminare l'episodio però volevo darvi qualche informazione di servizio e farvi alcune domande la prima è che è già uscita la pre-release della versione 1.10 di Minecraft e devo dire che anche se le novità sono meno rispetto alla 1.9 per me sarà una versione molto più interessante visto che aggiungeranno dei blocchi da costruzione che mi interessano moltissimo l'altra cosa che volevo chiedere è invece saresti interessati a vedere un video sulle novità introdotte dalla 1.10 o preferireste continuare con questo progetto? a me sinceramente va bene in termini modi quindi vi lascio la scelta a voi ah e tra l'altro cercherò di rendere queste serie un po' più costante perché uff, due mesi sull'episodio e l'altro è un po' troppo ma quindi per questo episodio è tutto spero che vi ho apprezzato, spero di vedervi nel prossimo episodio ciao a tutti